Sono partiti oggi i lavori per realizzare la segnaletica orizzontale dei parcheggi sull'ultimo tratto di viale Corrado IV. Circa 40 posteggi, con posti riservati anche ai disabili, come annuncia l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri. Una scelta quella dell'amministrazione per far fronte alle numerose richieste dei commercianti della zona, che negli ultimi anni, a causa di lavori e mancanza di parcheggi circostanti, hanno visto ridursi drasticamente il numero dei clienti dei loro esercizi commerciali. Entro la prossima settimana, invece, si concluderanno i lavori relativi ai parcheggi della Rotonda, tra viale Corrado IV e via Beato Cesilio. A breve ci sarà l'inaugurazione. Anche in quella zona si pagava la mancanza cronica di aree di sosta. I lavori in quell'area sono costati circa 200 mila euro e i parcheggi a servizio delle attività commerciali sono 50. In zona ci sono anche dei palazzi appena ristrutturati, che a breve verranno riconsegnati ai proprietari. L'assessore Capri ha chiarito che si sta ultimando anche la segnaletica nella stessa area, mentre entro la fine del mese dovrebbero essere pronti anche i parcheggi dell'Exompi, la struttura cittadina che ospita gli anziani. La viabilità complessiva di quella zona dovrà concludersi a breve con il terzo lotto in viale Corrado IV, un lotto che prevede una rotatoria nei pressi del casello dell'Aquila Ovest e il cui completamento è previsto per il mese di giugno. In questo modo, ha spiegato Maurizio Capri, si avrà un collegamento tra la statale 17 e la statale 80, che diverranno così a senso unico.